L'importante è che adesso lo riconosca signora, ecco mettiamoci qui, possiamo osservarlo senza essere visti, qui, qui signora, qui. Quello di destra o quello di sinistra? Quello di sinistra, guardi. Ma se non si volta come faccio? Non lo vedo, sono così emozionata, capisce vero Lo guardi, lo osservi attentamente. Ma che? Una settimana che studio, non riesco a infilarlo nel buco, capisci? Ma com'è possibile, scuso? Ma com'è possibile? È la velocità del pensiero. Ma non mi fa ridere. Prova, prova. Che provo? Prova tu, poi vedi, se hai il pensiero veloce. No, no, no. Sì, sì, ma ti hai detto. Orco, come hai fatto? La velocità del pensiero. Ma che ti sei ammattito? No, io l'ho, io sono guarito, anzi, tra poco esco. Già, è vero. Eppure vedi, Nicola, mi dispiace che te la fai. Oramai mi è raffiatato con te. Eh, anche a me mi dispiace. Cisà, gli metteranno nella mia stanza al posto tuo. Sì, su, ma non prendertela, su. Anche se io volessi rimanere, cosa vuoi, non mi tengono. Hanno bisogno di tanti posti, capisci? Hai ragione. E già, con tutti questi matti che stanno in giro, nel mondo. E Alberto, non c'è dubbio.